Domani 29 aprile a Chioggia giungerà la tappa della 500 miglia Touring 2023 in corso del popolo. Si tratta della 25esima edizione che prevede verso le 16 l'arrivo di un'ottantina tra autostoriche e supercar che prendono parte alla gara itinerante non competitiva partita da Brescia venerdì 28 aprile e che nel tragitto verso Chioggia ha toccato Firenze e Ravenna. In corso del popolo verrà installato un arco gonfiabile posizionate transenne a cura dell'Associazione Culturale Terre Vere di Brescia, organizzatrice dell'evento. L'arrivo delle vetture è previsto verso le 16 davanti al municipio dove saranno accolte dalle autorità civili per i saluti di rito e la consegna di targhe ricordo. Le auto rimarranno in corso fino alle ore 18 circa, partiranno poi il 30 verso le 9 alla volta di Padova a cui seguirà Verona e poi il rientro a Brescia. Beffed, il pub di successo tutto italiano dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.